Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati. Mi ricollego subito all'ultimo video dei prodotti finiti perché proprio in quel video vi mostro qualche profumo terminato e vi dico che in realtà ne ho altri addirittura d'arrivo. Chissà perché magari per un anno non ne finisco mezzo, invece quest'estate tutti insieme. Poco male casca a fagiolo l'invito da parte di Sabbioni a testare, a provare tre fragranze del brand Trussardi. Ora Sabbioni, lo conosciamo ormai benissimo, penso che sia almeno più di un anno e mezzo che vi parlo di questo e-commerce e continuo a consigliarvelo vivamente. Come sapete la proposta è davvero ampia, soddisfacente, abbiamo visto insieme Enolea, Taba Skincare, Herborian, Astra, ma trovate anche Mulac, Diego Dalla Palma, Dior, Yves Saint Laurent, insomma tantissimi brand. Ora parleremo di Trussardi, parleremo nello specifico di profumi, ma sappiate che qualsiasi cosa vi interessi sul sito di Sabbioni potete inserirlo nel vostro carrello e poi inserire il codice sconto Michela10 che vi sconta tutto del 10%, quindi se nel carrello avete qualche prodotto che è già in sconto ad un prezzo interessante, il nostro codice sconto andrà a sommarsi. È quindi cumulabile con altre offerte in corso, non c'è scadenza, non c'è fretta, quando e se vi serve è a vostra disposizione e veramente anche a mia disposizione perché io stessa lo uso spesso. Se Sabbioni lo conosciamo bene, invece di Trussardi non avevo mai provato nessuna fragranza e vi dico la verità, come sempre, paurissima, paurissima di questa collaborazione perché io sono consapevole, mi conosco e so di essere un naso un po' difficile e non perché abbia questo naso esperto, sopraffino, super esigente, allenatissimo, no, tutt'altro. Banalmente, semplicemente soffro di emicrania, quindi probabilmente anche mio gusto, ma l'emicrania non aiuta la stragrande maggioranza dei profumi, non mi piace nel senso che finisce per disturbarmi e vi assicuro che mi è successo, ora non è il luogo per parlarne, ma ne parleremo, mi è successo recentemente di acquistare due fragranze per fortuna in un formato piccolo, travel, che lì per lì mi hanno convinto, le ho provate anche su pelle, le ho scelte, le ho acquistate, ma poi nella vita di tutti i giorni è qualcosa andato storto e vi giuro che anche con i profumi che superano questa prova della vita di tutti i giorni, continuano a piacermi, uno su mille ce la fa, se li spruzzo poco prima di entrare in auto, finisco per farmi star male da sola. Ebbene sì, mi faccio questi autogol pazzeschi, ditemi che non sono l'unica. Quindi, ero un po' timorosa, ma non posso certo fermarmi per un timore astratto, insomma, sarebbe stato stupido rifiutare, le cose si provano, ci si fa un'idea, eventualmente si procede o si declina la collaborazione. Che ci crediate o no, mi è successo tantissime volte e mi è successo anche con Sabbioni, le mie amiche lo sanno. Ovviamente vi consiglio l'e-commerce, mi trovo benissimo, imballano bene, sono velocissimi, servizio clienti, super disponibile, con la mia referente Martina mi trovo da Dio, è adorabile, disponibilissima, comprensiva, perché ragazzi con me ci vuole pazienza. Io ho un altro lavoro, ho la mia famiglia, insomma, come tutti noi ho tanti impegni e a volte arrivo in ritardo sulle cose che io stessa programmo, come questo video che doveva uscire prima, quindi scusami Martina. Però ecco, non è che non ho una soggettività, cioè può essere che provo qualcosa e che non mi convince, è successo e semplicemente siamo passati oltre, questo è possibile perché dall'altra parte l'azienda ha rispetto nei confronti del creator, della sua onestà, del suo pensiero e si ha una visione comune. Ma Trussardi ha saputo conquistare il mio naso. Sono anche andata in profumeria fisicamente qui da me ad annusare altre fragranze, oltre a quelle di cui vi parlerò oggi. In particolare mi è piaciuta una che si chiama My Name, così ve la butto lì, e l'idea che mi sono fatta è che proprio come brand propone qualcosa di estremamente elegante, cioè discreto ma non evanescente, cioè siamo su quella cosa interessante, piacevole, non iperglicemia trapanante, diciamo... non lo so, io vi consiglio di starmi a sentire. E quindi iniziamo, non andiamo troppo per le lunghe. Il primo profumo di cui vi parlo in realtà è l'ultimo uscito sul commercio, quindi è proprio un nuovo lancio e sto parlando del Trussardi Ruby Red. Due parole sul flacone perché poi lo ritroviamo anche nelle altre due fragranze, declinato ovviamente in altre proposte colore. Abbiamo questa perfetta forma cilindrica che evoca gli abiti a colonna femminili degli anni 70, il tappo è in ecoplastica, questa decorazione a righe, il tutto impreziosito dalla parte superiore soft touch, la definirei, si chiama Apple Skin, questa biopelle ricavata dalle bucce di mela. fa subito lusso, arricchito dall'iconico logo del levriero di Trussardi. Io sono andata un po' a leggere, a informarmi, sarebbe interessante anche raccontarvi perché è il levriero, però non voglio annoiarvi brevemente. Ovviamente il cane è simbolo di, diciamo tutti insieme, fedelità. Per essere fedeli a qualcosa o a qualcuno ci vuole fiducia, fiducia cieca, che è quella che il cliente dà al brand Trussardi e Trussardi stesso è fedele ai suoi principi, per esempio un fortissimo attaccamento al Made in Italy. Il levriero, il levriero è una razza secondo me divina, esteticamente bellissimo, è sempre stato simbolo di eleganza, raffinatezza, classe, ecco che tutto si ricollega alla mia premessa. Con Ruby Red abbiamo una creazione a tre nasi, vi leggo, abbiamo Julie Massé, Violaine Collat e Alex Lee che hanno formulato Ruby Red aderendo a Green Motion, un progetto di sostenibilità che prevede un processo in grado di misurare l'impatto ambientale di una fragranza e prevede la biocoltivazione delle materie prime e che l'estrazione delle molecole olfattive sia fatta utilizzando strumenti i più avanzati a tutela dell'ambiente. Ma addentriamoci nell'anima di questo profumo rappresentato da questo rosa intenso, profondo, carnale, ai confini col magenta con un tocco freddo di blu, che va a rappresentare una donna libera e moderna. Infatti nelle note di testa in apertura abbiamo mirtilli rossi, prepotentemente mirtilli, ma questo fruttato nobile, ricercato perché è un attimo cadere nel troppo girly, sferzato dalle note di bergamotto e di zenzero, una donna libera e moderna ma anche sofisticata e magnetica. Infatti nel cuore, nelle note di cuore abbiamo cannella, ylang ylang e orchidea vaniglia, una donna soprattutto coraggiosa e audace. Infatti nelle note di fondo abbiamo paciuli, legno di sandalo e orcanox. Vi leggo, orcanox è una straordinaria molecola olfattiva sensuale e persistente, con deliziosi toni muschiati, legnosi e pudrè. Insomma un profumo che crea dipendenza come la donna che lo ispira. La vaporizzazione può sembrare un dettaglio banale ma poi il gesto di indossare il profumo lo compiamo tutti i giorni, magari più volte al giorno, quindi può fare la differenza e sicuramente ci comunica un'esperienza di lusso. la vaporizzazione di trussardi è super fine come getto, veramente fine fine fine, una nuvoletta molto ampio, quindi si vede che il pack lavora estremamente bene e io in questo profumo ci sento una sensualità giocosa, ecco non parliamo di quelle cose troppo cupe, misteriose, anzi restiamo anche su qualcosa di fruttato, di fresco, sensuale ma un po' birichino, un po' più frizzante. Riesce a essere dolce e fresco allo stesso tempo, personalmente ero un po' spaventata da questo colore intenso perché pensavo mi comunicasse qualcosa di più forte e quindi cadesse in qualcosa che mi disturbasse, invece no, mi è piaciuto davvero tanto. Chiaramente sono tre, ho delle preferenze tra i tre e poi vedremo insieme. Passiamo subito al secondo profumo di questo video, trussardi eau de parfum, credo che questa sia la versione classica. Come classica è il colore che lo rappresenta, abbiamo questo rosa un po' più spento e in questa proposta un po' più tenue, un rosa carne, un rosa cipria, un rosa antico, com'è antica ma evergreen la femminilità e l'eleganza della donna che lo indossa. Anche qui abbiamo sì una donna audace, libera, coraggiosa, abbiamo soprattutto una donna fiera, una donna molto femminile e ipnotica, abbiamo un profumo al contempo fiorito ma anche cremoso, molto interessante le note di apertura perché in testa troviamo il pomodoro, proprio le foglie del pomodoro accompagnato da un caratteristico mandarino italiano e neroli, invece nel cuore abbiamo un cuore fiorito, abbiamo gelsomino, per fortuna non troppo presente, abbiamo d'aglia bianca, abbiamo lavanda e invece nel cuore qualcosa di un po' più caldo perché ritroviamo paciuli, una violetta timida e un sentore di pelle scamosciata che però non è trainante ecco in questo profumo è diciamo un accenno, è un po' sfuggente, discreto appunto senza essere evanescente, senza perdersi. Questo è proprio il classico profumo che posso utilizzare senza paure nella vita di tutti i giorni, senza infastidirmi da sola, questo fiorito cremoso, leggermente talcato senza andare nel soffocante, speziato, aromatico, molto elegante, cuoiato senza cadere nel vecchio, nel retro, nel pesante e poi vi dirò qual è il mio preferito. Ho finito le braccia quindi usufruisco del tappo per annusare insieme a voi invece trussardi nella versione pure jasmine, un gelsomino puro non troppo presente, adesso andiamo ad analizzare un po' ciò che mi comunica più che una reale piramide olfattiva perché ripeto non sono poi un'esperta, qui il colore che caratterizza la fragranza è proprio questo bianco ottico, bianco puro, bianco sfacciato, infatti non abbiamo una donna molto misteriosa, una donna così che si fa rincorrere, da scoprire, che ci ipnotizza, ma abbiamo una donna vivace, luminosa, anche intrepida, un po' spavalda, un po' imprevedibile e quindi una donna unica e seducente grazie a queste altre caratteristiche perché ognuno è seducente a modo proprio, forse a parte seducente potrei sentirmi descritta da questa tipologia di donna ma in realtà mi sento rappresentata più da un altro profumo, comunque vediamo nello specifico, poi voglio sapere insomma cosa ne pensate voi, che tipologia di donna vi sentite e che profumo sulla vostra pelle vi rappresenta al meglio. Qui abbiamo nelle note di testa un bergamotto sempre e un neroli, abbiamo detto si chiama pure jasmine, ma nelle note di testa abbiamo un pistacchio salato che è una nota olfattiva che va anche molto di moda, così come il pistacchio in generale anche nella cucina ultimamente e in realtà a fare da protagonista non è il gelsomino, è proprio questo pistacchio salato che caratterizza la fragranza. Nelle note di cuore abbiamo un assoluto di gelsomino che però ripeto resta un po' più timido e poi abbiamo ciampaca, il fior della felicità, ha questo sapore un po' etnico, sapore, odore un po' etnico, deriva anche dalla magnolia se ho ben capito secondo le mie ricerche, e mugane. Nelle note di fondo abbiamo paciuli, legno di sandalo e vaniglia che vanno a scaldare il tutto. C'è questo pistacchio salato misto a crema solare di extra lusso, abbiamo comunque un profumo sicuramente vanigliato, legnoso, floreale, quindi un profumo dolce, dolce inteso più come frutta secca, e c'è anche qualcosa di balsamico quasi, uso questo pezzo di gomito, ma assicuro non c'è il rischio di sentirsi male, cioè non è quella cosa troppo prepotente, probabilmente fatta male, anche troppo chimica, troppo opulenta, ecco non siamo di fronte a questa tipologia di cosa disturbante. La mia preferita è la classica, è la seconda, è quella il rosa antico, nonostante il mio colore preferito sia l'altro, quello simile al magenta, quindi diciamo che io sceglierei la donna del bianco, il colore del rosso, ma la fragranza del rosa antico, e aggiungerei una donna confusa alle mie caratteristiche. Allora, mi piacciono davvero tutte e tre, per esempio, per chi ama qualcosa di caldo, questo può essere un caldo, ma essendo comunque discreto, magari la utilizzare in estate, mentre per me che preferisco delle fragranze un po' più fresche, questo è un caldo discreto che in inverno tollero, in inverno ogni tanto voglia di questa coccola, invece è un po' più accogliente, un po' più calorosa, quindi ognuno poi stagionalizza un po' le sue preferenze, però devo dire che in linea generale, proprio come proposta, Trussardi mi ha davvero conquistata. L'etica, il pack, questa parte in soft skin, il simbolo dell'evriero, quello che poi ho ritrovato, l'esperienza che poi ho fatto con questi profumi, mi fa davvero confermare l'eleganza, l'eleganza di Trussardi. Avevate mai sentito parlare di questi profumi? Vi ha incuriosito qualcosa? Mi raccomando, noi ci sentiamo sempre nei commenti, grazie Trussardi, grazie Sabioni, e ci vediamo se vi va al prossimo video. Super profumoso perché qua c'è un profumo in tutta la stanza esagerato.